Questa è una persona di saluti di Amadeus e delle cose che ci lasciano e le cose che rimanghiano per sempre. Questa è una psalma di bellos e bellos, molti di cui abbiamo nella nostra vita. E' una psalma di ciò che ci lasciano e ciò che rimangono e ciò che rimangono e ciò che rimangono per sempre. Grazie per la visione! Grazie! 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 Sisi Tarrant Nils Loftbred Sisi Tarrant 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 Sisi Tarrant